Gli aforismi e i proverbi che abbiamo selezionato racchiudono in parte il pensiero e la saggezza della cultura thailandese. Concediti pochi minuti di pausa e lasciati trasportare in questa affascinante cultura. La bellezza è la forza, il sorriso è la spada. Non ci sono scorciatoie per raggiungere qualsiasi posto cui valga la pena andare. Perdonare una persona che ti ha fatto del male è un regalo che gli fai. Dimenticare una persona che ti ha fatto del male è un regalo che fai a te stesso. Le piume più raffinate fanno gli uccelli più belli, il sarto fa l'uomo. Niente di azzardato, niente di guadagnato. Chi fa compagnia al lupo imparerà a ululare. Quando un povero urla, nessuno ascolta. Quando un uomo ricco semplicemente sussurra, il mondo intero trema. La conoscenza corretta, se non è accompagnata dalla virtù, è immorale. Se porterai pazienza in un momento di rabbia, ti risparmierai cento giorni di lacrime. Dieci lingue che affermano, non valgono due occhi che vedono. C'è chi è coraggioso in un villaggio ed è pauroso in una foresta. I riflessi dell'uomo sono all'interno, quelli della tigre all'esterno. E' folle chi, per piacere agli uomini, abbandona ciò che piace a Dio. Erbe velenose crescono anche fra le erbe medicinali. L'ignoranza è il vero demonio. Una tigre ti ringhia in faccia, un cane ti abbaia alle spalle. In amore non ci sono vincitori o vinti, c'è solo chi viene ferito di più e chi viene ferito di meno. Quando l'acqua sale, il pesce mangia la formica. Quando l'acqua scende, la formica mangia il pesce. I muri hanno orecchie, le porte hanno occhi. Quando i bufali combattono nella prateria, chi ci rimette è sempre l'erba. Le speranze si alzano più in alto delle montagne. Ammazzare il tempo è un peccato peggiore dell'omicidio. Ciò che viene fatto al buio, presto viene alla luce. Il lavoro è la fonte di ogni bene. I fuochi lenti rimangono accesi per molto tempo. Apprezziamo il valore del sale quando la zuppa non ha sapore. Per un uomo il vino è come l'acqua per una barca. Può trasportarlo o inghiottirlo. Chi non sa ballare, dà la colpa al flauto e al tamburo. Non potrai mai attraversare l'oceano finché non avrai il coraggio di perdere di vista la riva. Sette volte male, sette volte bene. La scienza senza conoscenza è la rovina dell'anima. Una persona virtuosa dorme bene. Lo spirito è disposto, è la carne che è debole. Ciò che è fatto di notte appare di giorno. Un grammo di prevenzione vale un chilo di cura. Occupati dei penni e le sterline si prenderanno cura di loro stesse. Tutto è instabile, non duraturo, incerto e transitorio. Dio aiuta chi si aiuta da solo. Bisogna essere in due per litigare. Tre cose sono difficili nella vita. Dominare il proprio appetito, fare i conti in tasca alla gente e stare sempre con la stessa moglie. Se l'opportunità non bossa, costruisci una porta. Per giudicare un elefante, bisogna guardare la sua coda. Per giudicare una giovane donna, bisogna guardare sua madre. Come ti sei fatto il letto, così devi stenderti su di esso. Il pericolo maggiore per la maggior parte di noi non è che il nostro obiettivo sia troppo alto e lo manchiamo, ma che sia troppo basso e lo raggiungiamo. Se vuoi essere ricco, pianta un boschetto di noci di Betel. Se vuoi essere povero, prendi una seconda moglie. di Nuomini, Con il nostro obiettivo sia troppo alto e due greedy divina. Se vuoi essere ricco, ci stato un paese che250 cborate a di Nuomini. 검찰 e le 24阿 relying sull Heiland Kilo per lei si iti connessi in base e lo cwene. Grazie a tutti.